Thomas Svedkauskas è un altro dei volti nuovi del mercato di gennaio, giovanissimo, classe 1994, di proprietà della Roma. Pescara punta molto su di te perché la trattativa è stata conclusa dai dirigenti del Pescara, c'è questa formula del prestito con diritto di riscatto, quindi significa che c'è molta fiducia nelle tue qualità. Sì, 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 Pescara ha fatto vedere che c'è molta fiducia in me, io cercherò di fare bene, cercherò di allenare bene, farò vedere che è giusto che ha fatto così. Tanto tu sei arrivato in Italia, passando prima per la Fiorentina però, no? Sì, prima hanno fatto la Fiorentina, ho fatto la primavera solo e poi sono andato a Roma. Bellissimo il torneo di Viareggio se non vado errato. Diciamo così, ho preso il miglior portiere del Viareggio e poi mi hanno guardato la Roma, da lì. Poi è arrivato la Roma, è arrivato la Roma con Sabatini, che è uno che se ne intende, insomma, i giovani. Sì, 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 ha portato lui là. Quest'anno invece sei stato alla Paganese, campionato di prima divisione, hai collezionato diverse presenze, è stata la prima esperienza da professionista, no? Sì, sì, diciamo così, è primo anno come professionista, ho preso un po' di esperienza, è stata bene. C'è un modello di portiere a cui ti ispiri? Non è uno che seguo così, così tanto, forse piace più Casillas di tutti quanti, pure quelli due che avevo l'anno scorso, Steckelberg e Lobont, che ho imparato tantissimo di loro. Quali sono le tue caratteristiche? Bravo, soprattutto tra i pali o magari di più nelle uscite? Questa domanda è più difficile per me, è meglio che può rispondere gli allenatori o non so, forse tra un po' vedono tutti. Però insomma, bene o male, devi chiaramente correggere alcuni difetti perché sei giovanissimo, no? C'è ancora vent'anni mi pare. No, 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 a quest'anno arrivo a vent'anni. Certo che devo migliorare in tutto, non c'è che una cosa faccio già bene, devo migliorare tutti i cosi. Con Belardi e Pelizzoli stai a posto? Con Belardi e Pelizzoli sto molto a posto, due portieri grandissimi, penso che imparo tanto. Tra l'altro tu sei lituano, titolare della nazionale Under 21 lituano. Titolare, diciamo così, ho fatto mezza per mezza con un altro portiere, tre partiti di sei ho fatto io quest'anno. Com'è il livello dei portieri in Italia? Che idea ti sei fatto? Buono, livello buono, portieri molto, molto, guardano tutti, 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 molto forte. Mi è piaciuto la scuola italiana bene, di portieri buona scuola. Diciamo che tu sei a Pescara non per fare una vacanza tra virgolette, no? Cercherai di soffrire il posto a Belardi e Pelizzoli? Sì, 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 voglio fare vedere che non sono venuto qua, come hai detto, a fare terzo. Per ora sono prima settimana qua, però poi dopo provo a fare meglio. Hai conosciuto un po' Pescara, l'ambiente, ti piace la città? Sì, un pochino conosciuto, bella città, il mare, tutto a posto. Grazie, grazie in bocca a lui. Grazie a lui.